Il nuovo Boards Hub di Azure DevOps. Ciao, io sono Michele e in questo video andiamo a vedere il nuovo Boards Hub di Azure DevOps, cioè tutta la nuova UI, tutta la nuova user experience che è stata fatta su Azure DevOps per quanto riguarda la visualizzazione delle board e la gestione dei work item. Per i più attenti e per i più aggiornati sulle novità, il Boards Hub vi sarete accorti è disponibile già da un annetto come funzionalità in preview ma spento di default, invece da quest'estate circa da luglio il nuovo Boards Hub viene acceso, è stato acceso da Microsoft di default per tutti gli utenti. Quindi andiamo un attimo a vedere come si attiva o come si torna indietro ormai, visto che è stato acceso di default e quali sono le differenze più sostanziali rispetto alla vecchia user experience. Non prendiamoci in chiacchiere ed entriamo subito in Azure DevOps. Allora ho qui davanti a me una Boards di esempio, il tanto caro Parts Unlimited generato con il solito Azure DevOps Demo Generator, giusto per avere qualcosa davanti. Allora per attivare o spegnere il nuovo Boards Hub, nel caso non ci trovassimo bene o volessimo tornare indietro, andiamo nelle funzionalità utenti qua sopra in alto e andiamo su preview features. Quindi clicco qui e vado a vedere quello che è il nuovo Boards Hub. Lo troviamo qua, attiva la nuova piattaforma web di Boards Hub. In teoria lo dovete trovare acceso, nel caso non lo fosse clicchiamo, dovrebbe partire un refresh della pagina e ci ritroviamo con questa nuova esperienza. Innanzitutto la prima differenza che balzerà all'occhio è che la rappresentazione dei work item e un po' tutto quanto occupa un pochino più di posto, è meno denso di informazioni, infatti è una cosa che a me piace leggermente meno rispetto all'esperienza utente precedente. Inoltre poi che cosa cambia? In particolare cambia qui la parte dei filtri che ha una UI un po' cambiata ma soprattutto cambia anche tutto il menu delle configurazioni che va quindi a omogenizzare l'esperienza e la grafica con tutte le altre parti di Azure DevOps che avevano già un pochino cambiato la grafica. Troviamo tutto coerente. Per quanto riguarda i settaggi sono assolutamente gli stessi, quindi andiamo a vedere i livelli di backlog che possiamo attivare o meno, quali sono i giorni di lavoro, la gestione dei bug, se li vediamo qui requirement o con i task e così via. Abbiamo sempre la possibilità di specificare per tipologia di work item quali sono i campi che vediamo e in una user interface qua ecco devo dire che secondo me è più fruibile rispetto al precedente. Abbiamo di nuovo sempre le informazioni sugli stili, anche questa secondo me è molto simile a quella di prima però funziona meglio, è più pratica da compilare e fa anche il verso con quella del delivery plan che ha praticamente la stessa esperienza, gli stessi controlli. Quindi si nota un importante lavoro di omogeneità, di rendere uguale l'esperienza utente. La personalizzazione dei tag, le icone per quanto riguarda le annotations, i test, l'iconcina dei test sulle card come vediamo per esempio questa qui, o i task presenti eccetera. Abbiamo sempre il collegamento con i test. Anche qui rivisitata la grafica per quanto riguarda la gestione delle colonne, più fruibile ma con gli stessi concetti si vede che non è stata particolarmente stravolta. Qui magari secondo me potevano implementare un drag and drop per spostare le colonne ma si è preferito mantenere, hanno preferito fare così probabilmente per non cambiare troppo rispetto al precedente. La definition of done, sempre un po' risicata qui sotto, poteva essere dato più spazio, la possibilità di essere ingrandito qui sicuramente. Infine, ecco, alle swim lane è stata data una configurazione più approfondita e una funzionalità che prima non c'era. Per quanto riguarda le swim lane, la funzionalità che non c'era è quella di definire dei criteri per spostare in automatico i work item da una swim lane da una corsia all'altra. E vediamo come fare. Praticamente quando io definisco una swim lane c'è adesso questo pulsante di aggiunta criteri. Qui, questa board che vedete qui sotto, che è stata fatta nel progetto di demo parts and limit, ed aveva già la swim lane expedite, cioè per dare quella swim lane, per dare evidenza a quei work item prioritari che devono passare davanti a tutti gli altri, magari anche violando quelli che sono i whip limit, ok? La funzionalità prima era completamente manuale, nel senso che dovevo spostare io con il drag and drop il work item, facendo così, da una swim lane all'altra. Ad oggi invece ho la possibilità di definire delle regole. Un esempio molto banale che posso fare è quello di ragionare sulla priorità. Quindi facciamo una regola dove io imposto che la priorità a uno in automatico mi viene messo sulla swim lane expedite. Quindi ritorno qui in alto a destra su i board settings. Vado su swim lane e nella colonna expedite, a cui posso anche magari dare un colore, gli do un rosso, un accenno di rosso, e vado a fare che il campo priority deve essere uguale a uno. Ok, faccio, potrei aggiungere un altro criterio, ma al momento mi fermo qui. Ed ecco che in automatico, al refresh della pagina, vedete, si possono già vedere i work items spostati nella expedite. Quindi se adesso qui sposto e scrivo 12, va bene, volevo scrivere 2, il work item è stato automaticamente spostato qui sotto. Sicuramente è una cosa molto utile perché quello spostamento manuale andava un po' magari a inibire l'uso delle swim lane che erano manuali e un po' macchinose da mantenere. Ovviamente posso fare tutte le regole che voglio. Un'altra che può essere molto utile è con i tags che in contains magari un punto esclamativo, questa la butto via. Se voglio, come convenzione di team, metto un punto esclamativo come tag per dire, ehi, questa roba è importante, ecco che in automatico viene portato lassù, allo stesso modo di prima. Ecco, questa è sicuramente una funzionalità interessante che non c'era nel boards, non c'è nel boards hub versione precedente. Aprendo invece un work item, anche qui vediamo la UI è leggermente cambiata, vediamo che l'impostazione è esattamente come quella di prima, però ci accorgiamo appunto che sono in realtà controlli grafici nuovi, lo vediamo per esempio qui dai tag che sono diversi, sono rotondeggianti, però in generale tutte le funzionalità sono state mantenute, è assolutamente identico. Una cosa che io ho notato però è che per esempio gli aggiornamenti di stato, soprattutto dei link al work item, delle attività collegate, soprattutto anche dei related work, degli work item collegati, non sono così puntuali e precisi come lo sono nella vecchia UI. Ci sono dei ritardi, a volte vediamo anche qualche errore, ci dice work item non esistente e così via, però basta un refresh e magari le informazioni si aggiornano. Però ecco, quella di prima non sbagliava proprio mai, qui qualche errorino ancora magari secondo me del fine tuning lo devono fare. Un'altra funzionalità che è stata introdotta sul nuovo board sub è la funzionalità move to column position, cioè possiamo spostare il work item da una colonna all'altra facendo così, ovviamente lo possiamo spostare da una colonna all'altra, per esempio qui vado in attesa rilascio e il work item si sposta qui, questo era il move to column, ho anche il move to swim lane, ok? Ma c'è il move to position, cioè quando io voglio riordinare rapidamente il work item all'interno di una stessa colonna, invece che fare questo drag and drop qui, posso dire questo qui lo voglio mettere in testa, faccio move to position, dice tra 1 e 6 perché sono 6 dico 1 e questo qui finisce sopra. Lo rivediamo, è il work item 3, 6, 8, faccio move to position 1, ecco abbiamo anche scoperto un piccolo bug invece che essere in done, è stato messo in doing, ecco perché ho voluto rifarlo. Si potrebbe aprire una segnalastina Microsoft in effetti. Un'altra funzionalità che possiamo trovare è nella storia di un work item, quindi qui nella storia, nelle modifiche, ho la possibilità di andare a filtrare e vedere per esempio quando sono magari stati toccati i tag, ok? Ecco vediamo i tag che sono cambiati, questo filter nella history non c'era una funzionalità nuova del nuovo board sub. Sempre disponibile nel nuovo hub abbiamo la possibilità di prendere i link degli attachment, quindi se io allego un'immagine per esempio questa, ho la possibilità qui di fare copy attachment link, così magari mi è più comodo metterlo nella descrizione, more information here, see attachment, e posso fare che metto il link in questa maniera, e quindi è facile dalla discussione scaricare l'allegato. Un'altra funzionalità che invece era presente sin dalle prime versioni, diciamo, delle preview del nuovo board hub è quello di mantenere il filtro quando siamo nella visualizzazione del backlog e andiamo a filtrare gli elementi. Mi spiego meglio, quando andiamo a vedere, diciamo in questa visualizzazione, che vedo la gerarchia, la vecchia versione del boards hub che non manteneva la gerarchia, cioè quando vado a filtrare, se per esempio dico questo qui lo assegno a me, quando vado a filtrare, questo qui, vedete, non mantiene la gerarchia, perché questo è il comportamento del uguale alla vecchia versione, ma qui ho l'opzione per dire, nelle impostazioni, mantieni la gerarchia keep hierarchy with filters, vado qui, a questo punto, quando vado a assign to me, mantiene che la gerarchia dove è inserito il bug assegnato a me. Questa è una funzionalità richiesta dalla community a gran voce, infatti è stata una delle prime ad arrivare nella preview del board hub. Per oggi con Azure DevOps board hub ci fermiamo qui, le feature al momento sono queste, le novità, la feature è ancora in preview, quindi potrebbe sicuramente ancora evolvere e migliorare come magari qualche particolare dei refresh che dicevamo prima. Se questo video ti è piaciuto o hai imparato qualcosa, mi raccomando metti un mi piace o iscriviti al canale, così sarai notificato sulle prossime uscite. Ciao! Grazie! Grazie!